Nel cuore dell'estate la Chiesa fa memoria di un dogma della fede, secondo il quale la Vergine Maria, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Proclamato il 1 novembre 1950 da Papo Pio XII, la glorificazione di Maria in corpo ed anima è parte integrante della fede cattolica. Nella Diocesi di Chiavari sono numerose le comunità che celebrano questa ricorrenza con particolare solennità. La festa di Nostra Signora Assunta è un momento centrale per la parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo, dove domenica la Messa della Vigilia delle 18 sarà celebrata dal Vescovo De Vasini. Lunedì giorno della festa le Santemesse saranno alle 8, alle 10.30 e alle 18.00, alle 20.45 la processione con i crocifissi e l'Arca della Vergine, salutata dai tradizionali colpi di mortaletti. Festa patronale anche a Missano nel comune di Castiglione Chiavarese. Anche in questo caso sarà il Vescovo a presiedere la Messa della Vigilia, domani alle 10.00. In serata alle 20.30 i primi Vespri, mentre lunedì la Messa Solenne sarà celebrata dal parroco alle 10.00. Alle 20.30 il canto dei secondi Vespri e la processione o flambeau. Arriva a Trigoso la Vergine e venerata col titolo di Madonna del Buon Viaggio. Nella parrocchia di San Pietro, domenica la Messa Vespertina delle 21.00 sarà presieduta dal Vicario della Diocesi, Don Stefano Mazzini. Lunedì Monsignor De Vasini presiederà la Messa delle 10.00. Alle 19.00 ci sarà la Messa Vespertina e alle 21.00 i Vespri e la processione lungo le vie del paese. A Barba Gelata di Lorsica si celebra Nostra Signora Regina del Creato. Lunedì alle 20.30 la Messa e la processione sarà guidata dal Vescovo. La festa sarà preceduta domani alle 18.00 dalla presentazione del libro su Don Agostino delle Piane, parroco dal 1951 al 1989. Nella chiesa di Sant'Ambrogio a Zoagli si celebra Nostra Signora della Salute. Domenica alle 8.00 la Messa, alle 9.45 l'offerta dei fiori a Maria, alle 10.00 la Messa Solenne, alle 18.00 la Messa e la processione Mariana. La solennità dell'Assunta a Portofino si aprirà domani con l'Adorazione Eucaristica alle 21.15 nell'Oratorio dell'Assunta, dove lunedì alle 18.00 celebrerà la Messa il Vicario Generale della Diocesi. Sempre lunedì, ma alle 10.00, Messa Solenne anche nel Santuario di Nostra Signora Assunta a Nezzarego di Santa Margherita Ligure.